Siamo felici che abbiamo vinto, era una partita difficile, ma noi avevamo una difesa dura e ci eravamo anche fine. Per questo allora non ho fatto fatica di fare i gol e mi dispiace per il numero 17 che ci ha fatto male. Sì, siamo molto contenti e domani siamo in finale, giochiamo finale.